Presidente, questo Consiglio Comunale è un consiglio un po' fatto da polemiche? No, ma le polemiche quando c'è un giusto confronto politico tra maggioranza e opposizione non mancano mai, quindi siamo abituati, però immaginiamo che a seguito delle polemiche, a seguito delle discussioni accese poi si possa avere un atteggiamento risolutivo perché la città e la collettività non ci chiede altro. Quali sono le risposte che verranno fuori da questo Consiglio Comunale? Intanto ci sono delle diverse interrogazioni, interperlanze di vari consiglieri comunali legate a congesi, legate a meriti da riconoscere a livello sportivo agli atleti Ruggero e all'atleta Albo, quindi poi ci sono altre interperlanze, quindi iniziativa da parte dei consiglieri alla quale insomma nel corso del Consiglio varrà data la massima attenzione, tanto è vero che sforeremo anche in termini di regolamento sulla tempistica perché le stesse devono essere trattate entro un'ora e invece abbiamo deciso di poter dare, utilizzando di poter dare la sovranità del Consiglio Comunale, maggior spazio. Il Consiglio Comunale è fatto appunto da tanti consiglieri e loro stessi devono essere tutelati nei loro interessi, nella loro attività di iniziativa. In tutto questo, quando si parla di congesi, qual è la situazione? C'è una situazione molto difficile, molto complicata perché c'è una posizione debitoria evidente nei confronti di Sorical, Sorical d'altra parte applica ad oggi una tariffa eccessiva, obiettivamente eccessiva, non addetta soltanto del Comune che in questo caso è utente, quindi Sorical è fornitore nei confronti di congesi, ma è chiaro che c'è una situazione che va chiarita e va chiarita attraverso una trattativa con Sorical con la Regione Calabria e in questi giorni sarà un impegno, un appuntamento di questa amministrazione finalizzata con questo chiarimento che serve nell'interesse del servizio, che è un servizio irrinunciabile, quello idrico, del sistema idrico e quindi in questi giorni ci saranno dovità. Ci sono a rischio posti di lavoro? Ma questo credo che sia l'ultimo dei problemi, però potrebbe essere anche questo un problema perché poi il servizio va garantito attraverso l'impiego di forza lavoro, non è questo il problema, il problema è certamente far chiarimenti sulla posizione debitoria da parte del Comune di Crotone attraverso la società congesi che non è altro che un consorzio di Comuni e quindi coinvolge direttamente anche il Comune di Crotone.